Let's get it guys, se vuoi acquistare skin e v-bugs nel mentre supportare il paurino nazionale ricordatevi che potete scrivere fanatic trattino in mezzo power scritto ovviamente col 3 al posto della e in supporta un creatore, lo trovate in basso a destra nell'item shop di Fortnite ogni tuo futuro acquisto su Fortnite supporterà anche me e vi farò degli splendidi ragazzi Let's get it boys Yemen, paradiso, paradiso, raga io devo faitare, devo faitare, c'ho le maniche proprio a fuoco, vedi, tutti schiaffi Quale? Paradiso Yemen, paradiso Yemen, paradiso Yemen, paradiso, paradiso, paradiso città Bring me down to the paradise city when the Mars is green and the girls are marzano Raga c'è un botto di gente Raga, bravo, morfe, warum, farò io? Rai, ti non ho ha a ribida E' un bitaio Ne ho fatti due, io ho bisogno di munizioni di air se noi avete Chi vi è sparato? Vabbè l'ho sciolto Ma cosa hai sciolto? L'ho fatto 6000 ora ora vado dal cazzo tutto mio alla senti scegli tu a ecco che vieni vieni maiano te li do te li dotti io ne ho sei non vedo nessuno bling porca troia ma dal lato tuo mannaggia per sottolo scudo one shot bling lo capo assolutar me ne uno che non ho munizioni ve prego in realtà ne ho 21 nel caricatore a nessuno un cazzo bling aprenditi il medic l'altro si tiri le bozze si prende lo snurpe più avanti se da solo c'è lo snurpe c'è lo snurpe stanno morendo l'ho visto l'ho visto l'ho visto non so se da solo contro 2.000 persone regalo dove vai di marzo 1 gli ho tolto 79 69 non so come aiutano il marzo della giure che i mori abbiamo tempo marzo di un altro chiuditi marzo arrivo d'alto chiuditi chiuditi c'è il medic in sotto vieni maiale schifoso ti devo dare una mano ce la fate c'è il medic lo staccato 15 e 13 è morto 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 regà se vi curate al volo se vi curate al volo tiriamo diritto dello yemen ero 2 1 ho preso io Raga vogliamo andare nello Yemen Andiamo 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 So come and grab this Then I have another rift So come and follow me Minchia raga scaroro per legna No 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 io le darò mai Giorgio 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 c'è una mitalletta No ce l'ho per me Puoi farlo Sì puoi farlo anche su playstation Ma no ma gli altri marzo Ok ok non l'avevo visto Ma non l'avevo visto Ti spacco Che cazzo di pro player di merda a te Che cazzo di mappavori Ma mi permetti di chillare pure a me Ma che chillare che stai in try yard a merda No try yard no però sto spingendo proprio a tavoletta sulla gente Oh ma sotto Si è suicidato questo Si è suicidato questo Si è suicidato tutto Non c'è qualcuno No si è suicidato il tipo Ha fatto la scala del Solo una marea di loot da marzo e basta Che da faccio il biscuit Venite che andiamo Ok Dove stanno quei proiettini Che è che ce li ha Ce la dimo Dimo Aspetta Io non capisco Ci sono tutte le case Quasi Ok Mi facciamo curarmi Mi facciamo curarmi Ma dov'è il rift? Ah ce l'ha marzo Sono lontano Che va a fare l'alba? Ma io lo schifo Andiamo a vedere chi sono le all'oasi Non ci sono più mi sa Non spotano più all'oasi No Non c'è di no No Lì a prendere le cose Zuku zuku Le piadrine a zuku zuku Le piadrine a zuku zuku Sì sì Beh lui vada a fai Mio Beh raga abbiamo le piadrine Andiamo? Stiamo andiamo? Il gucci Squadra spettrovolanti Ce l'ho davanti Ci stanno fetando Sì 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 Vioppa vioppa Eh no ci sono più pietre Non mi rinnovate lo spiego Lo stanno troppo avanti Stanno andando Ma mi si è pancata Mi chiamo i pietre perfusione Mi hanno vinto una Ma trolla Omarzone arrivo No Oddio Ma come Perché mi è collassata la sua scala su di me L'ha editata il pezzo di merda Mannaggia lui Mi ha editato la scala È stato bravo Ragazzi c'è un'altra persona Quello contro mi sa che mi ha editato lui la scala Me l'ha editata bravo Ma dov'è Se ci fosse il gioco che mi tasse le mie rampe Magari Qua un medikit Medikit è qua da me Oddio un campfire forse Se ce lo tiriamo me la porto Gente visibile Dai Oh Dov'è Quello è Dipo Dov'è È dentro Sotto al sud Sotto al sud riscesa non lo vedo non è riscesa è qua la donna che aggressione che aggressione rega ho tirato solo colpi da 90 in testa su ogni persona davvero ma non ragazzi che aggressione crash di body sulla per sulle persone io solo armi io solo armi ma lì in quelle case vogliamo volare io dove dalle ma sinistra destra dove marzo una colpa ma mi è salito accanto ah raga ma questo chi è o io ho altre due bedane la vogliamo usare trovati chi è che mi ha editato una rampa non io non lo so fare quindi non hai più amico lo skimmish quello aliz c'ho le trappole c'ho le trappole hitato meno 69 32 32 32 sentite no scopo all'ultimo ah è l'ultimo mi sta spaccando la struttura vi spacca è caduta io non li vedo nemmeno non è caduta c'ho la mia tripla scala ho letto di no scopo l'altro no scopo di fila solo no scopo lo scopo ho fatto un pochino scopo la distanza era era giustificabile da tre bombe record un otto tagliato la madonna iscriviti al canale